ciao ragazzi e bentornati nel mio canale in questo video vi voglio parlare dell'invidia diciamo che un video su richiesta perché adesso mi arrivano anche le richieste di alcuni di voi che vogliono che faccio dei video e io li faccio perché per me è veramente un onore questo allora l'invidia da cosa nasce secondo me nasce dall'idea che una determinata persona vorrebbe avere determinate cose ma non ci riesce e invidia chi casomai ce l'ha per esempio io so una storia di una ragazza che non faccio nome per carità che praticamente per qualche strano motivo invidia il sedere di una sua collega dice che vorrebbe averlo come il suo però in realtà secondo me secondo me è sbagliato perché perché magari anche la sua collega secondo me potrebbe essere che ne so invidiosa di questa ragazza perché vorrebbe avere che ne so i suoi capelli perché ognuno alla fine perfetto così com'è quindi non c'è diciamo bisogno di invidiare secondo me sentimento di invidia nasce a scuola proprio andando a scuola almeno per quanto riguarda la mia esperienza perché a scuola parecchie volte i professori non tutti per fortuna non tutti quindi se siete insegnanti e state guardando questo video non voglio che lo prendete sul personale perché io parlo per mia esperienza personale non sto neanche parlando di tutti i professori perché non erano molti così però dico cominciano a fare preferenze quindi questo lo mando avanti quest'altro no non mi sto riferendo in fatto di voti ma infatto nel fare le cose ad esempio io mi ricordo che quando andavo a scuola ci stava una ragazza noi facevamo moda cioè io facevo moda una ragazza che praticamente stava sempre in mezzo lei cioè qualunque cosa che si faceva lei doveva stare tra virgolette in mezzo non perché lei si metteva in mezzo ma erano i professori che le facciano fare qualunque cosa ci stava da fare una sfilata lei doveva sfilare ci stava da fare una recita lei doveva recitare ci stava da fare altra cosa lei doveva fare quell'altra cosa cioè in pratica la sezione moda si reggeva risultato su questa persona io dico che non è giusto non è giusto perché eravamo dieci ragazze lì ed è giusto che si dà spazio a tutte quante chi più chi meno però è giusto avere un po di spazio secondo me perché allora in questo caso può nascere diciamo una certa invidia perché dice quella tutto noi non abbiamo niente neanche la metà neanche un quarto anzi proprio niente zero proprio zero sottoterra niente allora in quel caso può nascere un invidia un invidia se vogliamo anche giustificata infatti mi ricordo che quando miei genitori andano a scuola a parlare non è che dicevano perché loro si lamentavano di questa cosa a scuola mi ricordo che praticamente che loro dicevano lasciate perdere mia figlia d'accordo perché è chiaro che uno un professore che si arriva così dice il genitore che vuole che vuole un certo senso che sua figlia faccia le cose però però non è giusto che una sezione di moda si debba regge su una sola ragazza lì sono dieci ragazzi fate fare un po a tutti quanti perché comunque i miei genitori si arrabbiavano quando succede così in particolar modo di un episodio che non mi riguarda più da vicino cioè non mi riguarda da vicino perché non sono stata io diciamo che stavo in questa situazione mi ricordo che praticamente lei doveva fare la foto modella la regina come la chiamavo io la regina e praticamente se ne uscita un'altra ragazza di noi e posso fare pure io qualche foto anch'io c'ho delle belle gambe la professoressa ha fatto uno sguardo proprio schifata come per di tu non ce n'hai delle belle gambe cioè alla fine alla fine sta povera ragazza povera per modo di dire perché era una di quelle bulle che mi dava pure fastidio però alla fine io sono giusta cioè quando una cosa è sbagliata anche se la persona mi ha fatto del male in questo caso sono dalla parte questa ragazza cioè ma come può essersi sentita perché qua stiamo parlando di bellezza fisica comunque che è molto soggettiva e poi al di là di quello al di là di quello comunque secondo me è sbagliato che i professori facciano queste questo tipo di paragoni perché si sa come sono le ragazze soprattutto le ragazze adolescenti che vogliono essere sempre le più belle e non è bello fare così ecco come nasce l'invidia nasce l'invidia quando casomai una persona viene privilegiata in tutto e gli altri vengono lasciati indietro poi l'invidia può anche nascere tra virgolette quando non si stima una persona cioè si crede che quella persona sia diversa da come è veramente in un certo senso e quando questa persona riesce a fare un qualcosa anche se noi abbiamo fatto il doppio noi siamo invidiosi ma come è possibile io pensavo che questo era stupido e ma guarda qua l'invidia può essere anche quello oppure può essere un invidia se vogliamo anche di fronte a chi ci ha fatto del male cioè mi spiego mi spiego io ma non lo dovrei dire non lo dovrei dire perché mi dispiace però purtroppo l'invidia fa parte dell'essere umano e io sono un essere umano quindi anche io posso essere invidiosa tre anni fa praticamente una mia vecchia compagna di di classe si era fidanzata cioè non tre anni fa no tre anni fa io l'ho scoperto perché poi io sinceramente ci sono rimasta male perché dice come è possibile che quella cattiva cattiva perché era una di quelle che mi mi rompeva le scatole ma cioè fidanzata io no allora forse è colpa mia quindi l'invidia può anche nascere del fatto che tu comunque non sopporti che una persona che ti abbia fatto del male abbia fatto qualcosa che tu non hai fatto e purtroppo cioè mi dispiace aver avuto quel sentimento però purtroppo i sentimenti sono sono umani cioè anche voi li avete perché chiunque ce li ha per esempio avevo fatto l'esempio di quella ragazza che c'è rimasta male perché la sua collega così quindi alla fine l'invidia è anche quella come combattere l'invidia ma secondo me l'invidia fa parte dell'essere umano però si può diminuire come per esempio nelle scuole dare la possibilità a tutti gli studenti di essere tutti uguali cioè non esiste quella persona che fa tutto mentre invece gli altri vengono lasciati indietro non esiste perché nessuno deve essere lasciati indietro poi secondo me anche diminuendo questa cosa nelle scuole si diminuisce di conseguenza il bullismo e quindi conseguenza anche l'odio delle vittime verso i bulli e viceversa e quindi così facendo si diminuisce l'invidia secondo me è così però tutto parte secondo me dall'educazione scolastica secondo me perché da lì che comunque il bambino o il ragazzo comincia veramente a soffrire tra virgolette le pene dell'inferno oppure essere pompato nel mio caso ho sofferto le pene dell'inferno perché non mi facciano fare niente nel caso quell'altra ragazza è stata pompata che poi uscita da là non ha combinato più nulla perché giustamente giustamente è facile no avere tutto tutto pronto soltanto perché sei amica della tua professoressa ma non è così perché anche i professori che possono essere amici io sono d'accordo su questa cosa anche se parecchi dicono che è sbagliato però l'amicizia non può precludere diciamo cioè a scuola devono essere tutti uguali cioè non esiste quell'alunno mio amico perché magari l'ho conosciuto da qualche parte magari ci conoscevamo già da prima allora lo mandava di quell'altro l'ho conosciuto adesso quindi è soltanto un alunno non esiste perché a scuola si è tutti uguali tutti quindi magari diminuendo questa cosa nelle scuole secondo me si può combattere almeno in parte l'invidia spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto a presto ragazzi